Nicoletta Cinotti, buonasera. Buonasera e grazie per questa conversazione che stiamo iniziando. Conversazione sul libro pubblicato da Enrico Damiani, Genitori di se stessi, niente meno. Genitori di se stessi, è questo il titolo del libro. Mindfulness e Reparenting è il sottotitolo. Nicoletta Cinotti, psicoterapeuta, analista bioenergetica, appassionata insegnante di mindfulness, tra l'altro ha anche un sito www.nicolettacinotti.net dove ogni giorno incontra le difficoltà del vivere e cerca di smontarle, cerca di smontarle attraverso il suo sguardo, la sua prospettiva di conoscenza psicologica, ma non solo. Nicoletta Cinotti, lei ha terminato da poco la sua giornata lavorativa, guardandosi indietro oggi. Quali parole possiamo estrarre dalla sua attività in studio? Beh, in realtà oggi ho fatto una formazione in reparenting, quindi proprio dedicata al tema del libro. Forse ci sono tre parole che potrebbero essere un po' il filo conduttore, imparare a confortare, imparare a lasciare andare e tornare a un cambiamento che non sia per obiettivo, ma che sia una forma di crescita. D'altra parte noi cresciamo come esseri umani e purtroppo pensiamo che una volta diventati adulti la nostra crescita sia terminata e in realtà possiamo continuare a crescere per tutta la vita. Ma lei smonta o cerca di smontare qualche cosa che è dentro proprio la costruzione mentale nostra, perché da quanti anni noi siamo imbibiti di questa cosa. Dobbiamo ragionare per obiettivi, dobbiamo cambiare per obiettivi, dobbiamo lavorare per obiettivi, dobbiamo vivere per obiettivi e invece lei, Nicoletta Cinotti, pochi minuti fa ci dice che non è così. Dobbiamo cambiare non per obiettivi, ma per forma di crescita. Ecco, credo che questo sia un punto di partenza importantissimo per essere genitori di se stessi. In che modo? Beh, diciamo che se entriamo nella logica dell'obiettivo ci sono solo due possibilità. O vinciamo o perdiamo. Se realizziamo l'obiettivo vinciamo, se non lo realizziamo ovviamente sentiamo una perdita. Se invece mettiamo le intenzioni di imparare da quello che ci succede e di utilizzarlo per crescere, qualunque errore o fallimento ha in sé l'energia della riparazione e possiamo imparare da quell'energia della riparazione. Quindi è anche un modo per fare pace con gli errori e considerarli come un aspetto inevitabile di qualunque processo di cambiamento e, come preferisco dire io, parti inevitabili di qualunque processo di crescita. In altre parole, lei ci racconta l'immagine della copertina del suo libro. Noi che siamo tutti stropicciati dalle nostre ansie, i nostri dolori, siamo tutti malmessi a un certo punto, che cosa può diventare di questo straccio di carta tutto quanto malconcio? Beh, possiamo fare della nostra vita un'opera d'arte. Come succede agli artisti, quando un artista inizia un'opera non sa bene dove andrà a finire. Ha delle idee, ha delle intenzioni, ha delle direzioni che vuole prendere, ma non sa bene come sarà la sua opera d'arte fino a che non è finita. E per molti artisti la fine in realtà è un lavoro continuo. Noi possiamo trattare la nostra vita come un'opera d'arte, anzi, credo che ogni vita possa essere un'opera d'arte se usciamo appunto da questa logica successo-fallimento, fare le cose giuste, fare le cose sbagliate ed entriamo in una visione più dinamica di noi. Ecco perché mi sembra importante diventare genitori di noi stessi, perché se continuiamo a stare in una posizione da bambini, abbiamo sempre bisogno che ci sia qualcuno che ci dice qual è il passo successivo e invece forse gli unici che sanno davvero quale può essere il passo successivo siamo noi. Eh sì, siamo noi perché non c'è nessun altro. Siamo noi e soli non siamo capaci, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci tracci la strada, che ci dia un metodo. Il metodo, d'altra parte, se andiamo dentro questa parola, non è nient'altro che il sentiero. E in questo sentiero incontriamo le due parole che compongono il sottotitolo. Sono due parole, in particolare mindfulness, che spesse volte sentiamo pronunciare, ma a volte perdiamo un po' il significato. Lei che di mindfulness si è nutrita e si occupa brevemente, che cosa vuol dire? Beh, diciamo che c'è una traduzione ufficiale, e di fatto vuol dire piena presenza mentale. Poi quello che significa piena presenza mentale è essere presenti a quello che accade nella nostra vita, nel momento in cui accade, momento per momento. Quindi è l'invito ad essere in relazione con noi stessi e con la realtà, così com'è, andando un po' al di là del giudizio o sospendendo il giudizio, quindi vedendo come si sviluppa il processo. In realtà è una qualità, la piena presenza mentale è una qualità che ognuno di noi ha. I bambini piccoli possono essere totalmente presenti in alcune attività ed è qualcosa che casomai rischiamo di perdere proprio perché facciamo fatica a tenere dietro a un'enormità di piani, progetti, obiettivi e simboli che la nostra vita ci offre. E allora per arrivare a uno stato o quantomeno essere vicino a uno stato spontaneo, essere autentici, Nicoletta Cinotti ci propone una seconda parola. Anche questa è fondante, però prima di essere fondante questa parola la dobbiamo, per così dire, costruire giorno dopo giorno perché questo libro ci oppone anche degli esercizi, ci mette in pratica, perché possiamo metterci in gioco, ma non per vincere, non per perdere, non per questi obiettivi, ma per metterci in gioco sulla parola straordinaria che è la parola trasformazione. E quindi la seconda parola di questo libro è una parola importantissima. Sì, la seconda parola è reparenting, tradotto vuol dire fare di nuovo il genitore. Ma che cosa significa? Significa che tutti noi abbiamo sperimentato nelle nostre relazioni con i genitori, nelle nostre relazioni familiari o nelle nostre relazioni significative, dolori, delusioni, fallimenti e a volte rimangono come tracce, come cicatrici, ma come dice Lumi, già quelle cicatrici può nascere qualche cosa di nuovo. E quindi che cosa possiamo fare? Possiamo comportarci come il genitore che avremmo voluto avere con noi in quel momento difficile e farlo con pazienza. Questo ci aiuta anche a riprendere una relazione, uno sguardo diverso con i nostri genitori reali perché se ci mettiamo nella logica di essere genitori di noi stessi possiamo accoggerci che come figli siamo anche difficili, insomma, a volte è difficile essere genitori di noi stessi e possiamo così tollerare e comprendere gli errori che possono aver fatto i nostri genitori. Potremmo ricondurre Nicoletta Ginotti a una sola parola tutto quanto, cioè all'aver cura di noi stessi. Reparenting in sostanza un po' questo ci dice perché come importante aver cura degli altri dobbiamo necessariamente aver cura di noi stessi perché se non alleniamo noi stessi non riusciamo poi a incontrare nella giusta forma lo sguardo dell'altro, la presenza dell'altro e questo libro è un aiuto straordinario proprio ad andare incontro all'altro. Potremmo dire, junghianamente, mi permetta Nicoletta Cinotti, che questo libro ci fa andare incontro agli altri per andare poi incontro a noi stessi. Esatto e per, diciamo, imparare ad amare gli altri abbiamo anche bisogno di amare noi, no? In genere pensiamo che basti essere al punto di amare gli altri, invece ci invita a fare un passo ulteriore che rende più radicato l'amore che è appunto quello di volere bene a noi stessi come agli altri. Beh, questo l'ha detto qualcuno di molto più importante di me che non vorrei citare impropriamente, ma insomma, se non amiamo noi come potremmo amare gli altri? Eh sì, perché l'amore è dato dalla conoscenza e più mi conosco, più mi conosco. Però la conoscenza, Nicoletta Cinotti, è così importante. Glielo chiedo perché a un certo punto del libro all'inizio, nelle pagine, possiamo dire, degli esercizi, nella pagina di meditazione, lei ci pone di fronte a una frase importante, no? che potrebbe anche essere fraintesa. Non sapere è la più grande intimità. Ci fa entrare in questo in questo momento di straordinaria intimità che è veramente nella forma più bella e è anche più intima. Come? Beh, quella frase è parte di una meditazione zen e perché non sapere produce intimità? Perché noi continuiamo a rimanere curiosi nel momento in cui non sappiamo, mentre invece se facciamo riferimento a una conoscenza cristallizzata di noi, togliamo la curiosità della nostra vita. Quindi, come giustamente dicevi, è importante conoscere, ma è importante che conoscere sia sempre in dialogo con il fatto che non sappiamo davvero, che abbiamo bisogno di domandarci ogni giorno che cosa c'è di nuovo nella nostra vita o come dice Saramago di guardare in occhi nuovi a ogni paesaggio che ci sembra di avere già visto. E di porci delle domande, no? Porci delle domande. Ne vedo una sottolineata tra le tante, no? Cose importanti di questo libro. Una domanda che apparentemente può anche essere considerata banale, no? può essere considerata, ma no, ma perché io devo aggiungere, aggiungere, invece devo togliere? La domanda è di che cosa ho bisogno ora? Esatto. Che non è, diciamo, il bisogno immediato, no? Superficiale, ma di che cosa ho davvero bisogno in questo momento? E questa domanda può, forse a volte non apre nemmeno una risposta netta, ma se rimaniamo in compagnia di questa domanda attiviamo la possibilità che emerga una risposta. Ed è una risposta intima, no? Di che cosa ho bisogno? Certo, ho bisogno di un tetto, ho bisogno di una sicurezza, ma se guardiamo davvero dentro di noi quello di cui abbiamo bisogno può essere qualche cosa di più relazionale, possiamo avere bisogno di intimità, possiamo avere bisogno di contatto, oppure, cosa ancora più bella, possiamo aver bisogno di fermarci. Eh sì, questo è molto importante, questa cosa non la consideriamo mai e quando ci fermiamo poi abbiamo la paura e in questo libro la parola paura è presente. Io vorrei proprio entrare in questi territori che sono difficili, Nicoletta Cinotti, lo sai bene perché lavorando giorno dopo giorno su questi temi, perché può darsi che qualche ascoltatore possa pensare sì, però state girando intorno, non arrivate ai problemi, alla nostra vita difficile, alla mancanza del lavoro, ai problemi psicologici, alle ansie che noi abbiamo verso i nostri figli, i nostri cari, i nostri amici, verso il problema della nostra identità, insomma, la fila è molto lunga dei problemi e allora sembra che le nostre parole possano invece essere a fianco dei problemi senza attraversarle e invece no, invece le parole che abbiamo ascoltato attraversano tutti questi problemi. In che modo? Ma partiamo dalle domande, noi siamo appassionati di risposte e però per trovare una risposta bisogna incominciare ad amare la domanda, no? Perché quello che ci spinge a farci una domanda è un'energia creativa e quindi per arrivare alla risposta stiamo per un po' di tempo in compagnia con la domanda, guardiamo che cosa significa davvero quella domanda perché se no il rischio che corriamo è in maniera un po' automatica di scegliere e di costruire la vita che hanno gli altri, il lavoro che hanno gli altri, la sicurezza che hanno gli altri, le risposte che hanno gli altri senza entrare in una dimensione più personale, quindi faccio per fare un esempio banale, a volte ci sembra di poter essere felici soltanto se riusciamo a trovare quella opportunità lavorativa e quando ci viviamo non ci rende poi così felici perché l'abbiamo inseguita perché era la risposta che aveva reso felice un'altra persona, quindi cominciamo ad amare le nostre domande e a trovare una risposta personale alle nostre domande anziché delle soluzioni standard, precostituite, preconfezionate che vanno bene per tutti ma non rendono felice magari proprio nessuno. a tutte le persone con una storia familiare difficile o che hanno vissuto un trauma relazionale sono come le stelle alpine o i fioli che crescono sui muri e negli anfratti angusti portano dentro di sé tesori di resilienza saggezza grazia grinta compassione e gentilezza tesori che possono arricchire loro stessi e il mondo oggi si parla molto Nicoletta Cinotti di essere inclusivi questa parola che arriva ad essere persino senza più significato e invece questa frase ma quanto include? include le persone che normalmente sono escluse cioè tutte le persone con una storia familiare difficile che hanno vissuto un trauma quelle persone forse che sono un po' lasciate da parte che hanno paura di raccontarsi oppure di dire di dirsi di dire a se stessi la loro posizione forse e tu lo tratti in questo libro forse perché hanno paura di vacillare e cadere per sempre e beh spesso quando sentiamo che la terra ci manca sotto i piedi o che stiamo attraversando una difficoltà possiamo avere l'idea che questo capiti solo a noi e che capiti in particolare a noi perché siamo tra virgolette sbagliate e invece in realtà siamo tutti soggetti a un universo in continuo cambiamento e tanto più coltiviamo la capacità di essere buoni genitori di noi stessi tanto più siamo resilienti a questa incertezza e tanto più siamo tolleranti nei confronti della nostra vulnerabilità e della vulnerabilità altrui torniamo a dove abbiamo iniziato non è vincere o perdere la vita non è una partita ci saranno tanti momenti in cui avremo la gioia di aver realizzato qualcosa e ci saranno tanti momenti in cui avremo la sensazione di avere perso e quelli sono i veri punti di svolta i momenti in cui possiamo dare alla nostra vita una direzione che ci rappresenta di più quindi usciamo dalla logica del fallimento torno a ripeterlo e entriamo nella logica del cambiamento naturale della trasformazione dell'elaborazione della riflessione rispetto a quello che accade nella nostra vita quindi in questo senso la vera inclusione è trattare con equanimità quello che vince e quello che perde non discriminare in base a quello che è conforme o quello che è difforme in fondo non abbiamo nessuno da accontentare se non noi stessi c'è il libro a portata di mano Nicoletta Alcinotti in questo momento sì no in questo momento no allora a proposito delle parole che abbiamo ascoltato sulla perdita c'è una c'è un testo importante di Elizabeth Bishop che ah sì è bellissima coniuga il verbo perdere partendo da una parola straordinaria cioè la parola arte e dice l'arte di perdere non è difficile da imparare così tante cose sembrano pervase dall'intenzione di essere perdute che la loro perdita non è un disastro perdi qualcosa ogni giorno accetta il turbamento delle chiavi perdute dell'ora sprecata l'arte di perdere non è difficile da imparare pratica lo sbarrimento sempre di più perdi in fretta luoghi e nomi e destinazioni verso cui volevi viaggiare nessuna di queste cose causerà disastri ho perduto l'orologio di mia madre e guarda l'ultima o la penultima delle mie tre amate case l'arte di perdere non è difficile da imparare ho perso due città proprio graziose e ancor di più ho perso alcuni dei reami che possedevo due fiumi e un continente mi mancano ma non è stato un disastro ho perso persino te la voce scherzosa un gesto che ho amato questa è la prova è evidente l'arte di perdere non è difficile da imparare benché possa sembrare un vero scrivilo disastro eh sì qui ci troviamo nell'ansia per esempio del perdere che ne so quando non riusciamo a trovare il telefono no? succede a tutti no? spesse volte ed è vero e l'arte di perdere non è difficile da imparare però perché ogni volta che perdiamo qualche cosa ci procuriamo queste ansie che fino a un certo punto sono giuste intendiamoci non è che si debba vivere in una tour di seburnia però perché noi ci creiamo sempre queste ansie esagerate? ma a parte che quella poesia è veramente bellissima però il punto qual è secondo me che ed è interessante che venga proprio definita effettivamente arte di perdere quando perdiamo qualcosa c'è un momento in cui è necessario fare il lutto riconoscere il dolore per la nostra perdita ma noi contraiamo spesso il tempo del lutto e cerchiamo immediatamente di accaparrare qualche cosa che sostituisca quella perdita il risultato è che incominciamo a non avere più fiducia nel futuro è per questo che l'arte di perdere è interessante perché ci dice perdere è normale perdiamo tutti perdiamo continuamente abbiamo bisogno di fare un po' di lutto per quel dolore della perdita ma non rompere la fiducia nei confronti del futuro che poi non è altro che la paura la paura è non avere fiducia nei confronti del nostro futuro e l'ansia è proprio la paura del futuro la paura di quello che potrà succedere quindi non confortiamo il lutto di una perdita e andiamo immediatamente a cercare di ripararlo attraverso un riempitivo un riempimento o qualche cosa di nuovo oppure azione più dolorosa ancora aggrappandoci a quello che se ne sta svanendo perché non vogliamo che se ne vada Nicoletta Cinotti qual è la parola che i pazienti dicono più spesso quando sono seduti davanti a te la parola in assoluto più frequente è ansia l'ansia è direi una sensazione molto molto citata ed è proprio legata alla paura del futuro perché diciamo il non poter prevedere quello che accadrà che ci mette e poi l'altra parola molto in voga molto citata è controllo perché noi siamo convinti che se abbiamo la situazione sotto controllo non potrà succederci niente di male in realtà il nostro controllo è ovviamente limitato la vita è talmente imprevedibile che abbiamo limitate possibilità di controllo però se siamo molto ansiosi possiamo aggrapparci al nostro desiderio di controllare eh sì il desiderio di controllare perché noi vogliamo essere vincitori sempre comunque e dominare no in ogni modo la situazione però in questo libro ci rendiamo conto razionalmente razionalmente che molte perdite possono essere più fertili di molte vittorie nella nostra vita e quindi sono ancora ancora più importanti ciò non vuol dire un invito alla delinquenza in un certo modo ma è un invito a guardare a se stessi in maniera in maniera razionale come ci fa questo libro passo dopo passo e non è e non è una cosa veloce questo è sicuro perché è un allenamento che richiede tempo pazienza cura di se stessi discernimento e tanto altro ma ce la possiamo e ce la dobbiamo fare questo è Genitori di se stessi Mindfulness Reparenting il libro di Nicoletta Cinotti pubblicato da Enrico Damiani editore ma prima di salutarci Nicoletta qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni? beh La cronologia dell'acqua è un bellissimo diario molto forte molto molto duro di una autrice americana di Lidia Yukonovic spero di aver detto bene il nome e beh Lidia è un bellissimo esempio di resilienza perché racconta la sua discesa nell'inferno inteso anche proprio in senso letterale alcolismo uso di droghe promiscuità sessuale ma lo racconta con una dignità e con una con uno sguardo verso il futuro che è incredibilmente interessante in più è un memoir quindi sono parla di sé e lo fa senza una cronologia perché come dice Lidia ma come dice anche un altro poeta americano che mi piace molto Ocean Wong è il tempo è una madre e quindi riporta a galla quello che noi abbiamo bisogno di imparare in quel momento quindi Ocean Wong qualunque cosa uno legga è meravigliosa incluso il libro di poesia il tempo è una madre e poi la cronologia dell'acqua è veramente molto forte ma molto molto bello e l'acqua è anche presente in questo libro genitore di sé stessi nell'ultima parte ricordo quando parli del fiume di quando era bambina un fiume piccolissimo però questo fiume anche se è secco può di nuovo essere ricco di musica e bastano le piogge dell'autunno perché torni a far sentire la sua voce e questo è molto importante questo è molto importante perché fa sentire la voce non soltanto del fiume ma è l'accettazione è l'accettazione anche di una grazia questo credo che sia che sia importante no saper riconoscere in noi anche una grazia ed avere ed avere per questo il sentimento il senso della gratitudine anche questo che ci indica genitori di sé stessi grazie davvero Nicoletta Cinotti del tempo che ci hai dedicato grazie a te per le bellissime domande buona serata e buon ascolto ciao ciao